Ok, scusatemi se riprendo il tempo così, allora adesso introduciamo l'ultimo argomento che è la comunicazione, non avremo tanto tempo, è un po' alto, mi rimbomba, grazie, ok, non avremo tanto tempo però ieri sera dopo che abbiamo chiuso il lavoro pensato ad una modifica del lavoro che avrei voluto fare con voi oggi e quindi faremo questa esercitazione finale, faremo questo lavoro finale nel quale vi eserciterete a comunicare un'idea per avere il finanziamento della stessa, ok, è un qualcosa che penso che ad alcuni di voi possa servire come allenamento. Chi appunto magari non si rispecchiasse in questo bisogno, in ogni caso comunicare un'idea per ottenere un consenso, ecco, vediamola in questo modo, faremo proprio una strutturazione di come, tra l'altro in pochissimi minuti, perché l'esercitazione sarà dell'illustrazione da parte voi di un'idea in tre minuti, molto sfidante come cosa, però sarete bravissimi e ci riuscirete. Partiamo dalla comunicazione, attori della comunicazione, la prima cosa che dobbiamo tenere presente quando comunichiamo con qualcuno, qual è? Come? Che si parli la stessa lingua. Perfetto, che si parli la stessa lingua. Che l'altra persona è? Certo, che sia disposta ad ascoltare. Certo, certo, che nella relazione ci sia win-win, tutti e due stanno vincendo nella relazione. Mostrare sicurezza. Come? Mostrare sicurezza, ok. Guardate queste due persone, se fossero, naturalmente non lo sono, però se fossero in una relazione comunicativa, la prima cosa che vi viene in mente è qual è? Come? Un linguaggio del corpo. Un linguaggio del corpo anche abbastanza significativo. Sono due persone? Più in via. Come? Il flusso di comunicazione è univoco. Ok, il flusso è univoco, quindi ad una via si dice, comunicazione ad una via. Che avete detto, bizzarro, sì. Avulse da un contesto. Avulse da un contesto. Non stanno parlando. Come? Non stanno parlando. Andiamo ancora più nella base. Potrebbero dimostrare chiusura? Beh, se quello gli sta mandando un messaggio, la risposta mi sembra molto di chiusura. Modalità inadeguata. Come? Una modalità inadeguata. Più alla base. Più alla base sono due persone diverse. Primo. Prima nostra riflessione. Nel momento in cui comunichiamo con chiunque, è la riflessione relativa a quella persona. È una persona diversa da me. È una persona che ha una mappa del mondo diversa dalla mia. È una persona che ha delle aspettative diverse. È una persona che ha, nella comunicazione, a meno che non me la espliciti, ha un'intenzione che io non conosco. Ok? Tutto questo ci porta ad aver mettere in atto delle strategie per rendere la nostra comunicazione più efficace. Però ecco, l'assunto di base in una comunicazione efficace è tenere presente che l'altra persona non sono io, non sono nella sua testa, così come quella persona non conosce le mie intenzioni. E allora, quando andiamo a capire l'efficacia della comunicazione da chi è data, sicuramente da un'interazione circolare, e quindi la comunicazione che viene considerata due vie, che è garantita attraverso lo strumento che abbiamo visto prima del feedback, ma soprattutto dal fatto che la persona che lancia il messaggio per prima si ponga in una situazione di essere più esplicita possibile e che tenga presente che l'altra persona è altra persona da sé. Sì? E questa capacità di dire che l'altra persona è altra persona e se c'è una rispensa tra uomini e donne, cioè le donne ce l'hanno più o meno spiccata rispetto a le donne, se è una cosa che è mai stata teorizzata o considerata? No, non ho letto ricerche di questo tipo, no. Sulla differenza tra uomini e donne, ho letto diverse cose, però no, questa cosa no. Spiccatamente subliminale la donna, direi. Come? Spiccatamente subliminale. Oddio, questo è un po' di... Non colgo, eh, non colgo. Perché il senso... No, il senso è positivo. Ah. Ah, positivo. Ah, positivo. Ah. Meglio non sanno come insomma si baglia, però non sanno probabilmente come... Ok, se... La coerenza... Ok, allora quindi, assunto di base l'altro non sono io, ok? Quindi comunicazione e quindi da lì derivano tutta una serie di altri importanti accorgimenti, come avete detto, la propensione, l'importanza di ascoltare, l'importanza di chiedere un feedback, l'importanza di disporsi positivamente nei confronti dell'altro, eccetera. Esistono degli assiomi della comunicazione, ma li vediamo veramente molto velocemente. Il primo è che non si può non comunicare, cioè ogni atto è comunicazione. Il secondo è che ogni comunicazione è un aspetto di relazione e di contenuto. Spesso la relazione classifica il contenuto, è un po' quello che tu hai detto prima, no? Quella persona mi può dire una cosa veramente importante, se io la disconosco, perché considero quella persona incoerente con quello che dice, allora il contenuto della comunicazione non viene neanche preso in considerazione. La comunicazione può essere verbale e non verbale, ci sono anzi tre aspetti, una comunicazione di tipo verbale, una comunicazione di tipo paraverbale e una comunicazione di tipo non verbale. Nella comunicazione spesso, paraverbale, nella comunicazione spesso, alcune persone ti dicono, non è quello che mi hai detto che mi ha dato così fastidio, e come me l'hai detto, puoi prendere questa penna, puoi prendere questa penna, puoi prendere questa penna, ha una differenza enorme. Quindi l'uso della nostra voce, ad esempio, il timbro, il tono, la modulazione della voce e poi c'è la comunicazione non verbale di cui parleremo fra poco. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i partecipanti. In alcuni casi ci sono delle comunicazioni che sono come dei circoli viziosi. Si è chiuso in se stesso, lei brontola, lei brontola, lui si è chiuso in se stesso, lui si è chiuso in se stesso, lei brontola. Dov'è l'inizio, dov'è la fine? In alcuni casi nelle relazioni interpersonali, anche lavorative, non si capisce chi ha cominciato prima e chi ha cominciato dopo. La punteggiatura degli eventi ci permette di interrompere questo circolo e di ripartire. Chi opera la punteggiatura dell'evento spesso è la persona meno orgogliosa magari o comunque più razionale in quel momento. Spesso quando si arriva ad una situazione del genere bisogna interrompere la comunicazione e quindi accantonare in un secondo momento, magari affrontare la situazione. E poi gli scambi comunicativi possono essere simmetrici o possono essere complementari. Nella complementarietà noi abbiamo un ruolo di guida e un ruolo di guidato e questo ruolo di guida e di guidato è dato dalla relazione madre-figlio, medico-paziente. Maestro allievo, ad esempio già questo ti guardo perché è una tua specializzazione, nell'andragogia che è la teoria dell'apprendimento degli adulti non è più valido perché comunque non c'è questa assunzione di ruolo. Quindi nel momento in cui hai a che fare con degli adulti ti devi porre in una posizione che non è questa, è una posizione che è più paritaria. Paritaria così come nelle relazioni simmetriche che non è che sono totalmente paritarie perché nelle relazioni simmetriche stabili c'è sempre una guida e un guidato. Però c'è un'alternanza, quindi in questo settore, in questo argomento io sono la tua guida e tu sei guidato da me, quindi sono una persona che ti porta la sua esperienza, ti dà delle indicazioni eccetera. Di contro in altre situazioni potrebbe essere esattamente il contrario. Quindi nelle relazioni simmetriche stabili c'è questa alternanza di ruoli. Invece l'altro tipo di relazione simmetrica si chiama escalation simmetrica ed è una relazione di simmetria non stabile in cui il ruolo di guida che in quel momento magari dovrebbe assumere una persona non è accettato dall'altro. E allora quello che vedi nella comunicazione è un sovrapporsi di toni che via via diventano sempre più alti, è un non riconoscimento che anche nella non verbalità va, nell'aggressività che si manifesta va a confermare il fatto che io non ci sto in questa relazione, sono io che voglio dominare. Ed è una comunicazione assolutamente non efficace. Da tanto tempo secondo me nei talk show soprattutto politici e non soltanto andiamo veramente ad avere una rappresentazione di escalation simmetrica che non so a voi, a me fa sì che ad un certo punto perdo la concentrazione e dico no guarda, cioè inutile, magari diranno delle cose importanti. E' talmente brutto da vedersi come relazione comunicativa che appunto l'efficacia è totalmente persa. I livelli di comunicazione, ci sono degli studi che aumentano la parte della comunicazione non verbale, in generale si dice che il corpo non riesca a mentire e che quindi le persone nel momento in cui trasmettono una comunicazione, quando dissimulano, quando cercano di mascherare, vengono tradite dal corpo stesso. Vi è mai capitato di dover fare qualcosa che non vi piace proprio e magari vi si chiede ma allora lo vuoi fare? Sì, 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 il corpo ti sta dicendo no e quindi ti sta dicendo la verità. Verbalmente ecco perché nelle comunicazioni l'efficacia di una comunicazione frontale rispetto ad una comunicazione per iscritto o telefonica è inferiore. Naturalmente la graduazione è meno efficace quella per iscritto, successivamente quella telefonica e poi quella frontale. E questo perché mancano una serie di elementi che sono importantissimi, che fanno parte della comunicazione non verbale. Quali sono secondo voi gli elementi della comunicazione non verbale? I gesti, l'espressione del viso, gli occhi, il sorriso, la respirazione, i movimenti della testa, guardarsi negli occhi, la prossemica, la distanza tra le persone. E' vero, è vero, quindi ci sono delle distanze convenzionalmente accettate che sono legate naturalmente a quella che è la cultura, è vero. Per quanto riguarda altri, come mi vesto? Come mi vesto, ma sì, mi è capita relativamente alla parte come ti vesti, no? C'è sempre, ok, il vestito non fa il monaco, lo fa o non lo fa? In alcuni contesti lo fa, ma perché? Perché quello che io posso pensare nel momento in cui la mattina prendo e decido come vestirmi, va benissimo, è la mia motivazione. Poi vado ad un colloquio, ad un incontro, ad un corso di formazione e quello che le persone colgono non è detto che sia quello che è il mio messaggio. Mi è capitato, una cosa ve la racconto perché mi ha fatto molta tenerezza questa cosa, ho fatto formazione in una cementeria per tanto tempo. In quella cementeria io andavo, dovevo fare formazione in un'aula che stava al di là dello stabilimento produttivo, dovevo entrare, quindi dovevo essere vestita con le scarpe di sicurezza e quindi mi mettevo i pantaloni, eccetera. Finisco la formazione dei lavoratori e ad un certo punto faccio la formazione dei dirigenti. La formazione dei dirigenti si fa nell'aula, nell'area amministrativi che sta come entri nello stabilimento. Quindi sono arrivata vestita così più o meno, apriti cielo. C'è stato, quando poi sono riandata in aula con gli operai, mi hanno aspettato così e mi hanno detto, ah ma per i dirigenti ti fai bella, ti interessa di essere carina per loro, così. Per noi sei vestita proprio, guarda, con i jeans, con... La mia intenzione era un'altra, la mia intenzione era quella di poter passare in un'area in cui c'era anche un pericolo e di farlo in modo comodo. Quello che le persone hanno colto era un altro, era un altro aspetto. Non hai cura magari di vestirti bene, di vestirti carina per me. E quindi in quel caso il messaggio che io volevo mandare, anzi la motivazione per la quale avevo usato un abbigliamento in un caso e nell'altro era tutt'altra. Il messaggio che è arrivato a queste persone è stato un altro. Ho dato la mia spiegazione logicamente, qualcuno ha detto sì hai ragione, qualcuno mi ha risposto. Mi ha detto vabbè ti potevi portare comunque le scarpe da ricambio nella borsa e andare in giro con le scarpe di sicurezza e il vestito. Perché no? Comodissimo. Allora, quindi le avete già dette, quello non si vede mai benissimo. È lo sguardo di mio nipotino quando aveva quattro mesi. Io non mi ricordo cosa gli ho detto, mi ha guardato d'un male, ma d'un male. Allora, l'importanza dello sguardo nella comunicazione è fondamentale. Attraverso lo sguardo di nostra madre in primo luogo, ma attraverso lo sguardo noi riconosciamo l'esistenza dell'altro. Tant'è che anche parlando tra di noi, quando diciamo guarda con quella persona non ci volevo proprio parlare, è venuta, non l'ho neanche guardata. Quindi attraverso lo sguardo noi comunichiamo all'altro, ci sono nella comunicazione, ci sono per te. Ci possono essere delle persone che non hanno per altre motivazioni, diciamo così, la possibilità di sostenere lo sguardo in una comunicazione. È possibile che questo ci sia, è importante due cose. Da una parte farsi conoscere, quindi magari piano piano esplicitare, magari la timidezza, se è timidezza la motivazione per cui non si guarda la persona. Con però l'attenzione ad una coerenza, perché se il motivo per cui non ti sto guardando è che non voglio prestare attenzione a te, cioè non ci sarà soltanto il fatto che non sto guardando te, ci sarà magari il fatto che prendo il telefonino e mi distrago in altri modi. Quindi comunque il fatto che non ti sto guardando non è soltanto quello, il feedback della mia mancata attenzione nei tuoi riguardi. Ci sono altri aspetti. Per quanto riguarda la postura, anche lì, postura aperta, postura chiusa, senza andare ad essere eccessivamente rigidi nel, se ti metti in questo modo, sei in chiusura, in questo modo, cerchiamo anche di rispecchiare un po' la postura dell'altro. Hai fatto dei corsi di PNL, il mirroring è una tecnica. Spesso ci rendiamo conto, e questo lo facciamo molto spontaneamente, quando stiamo parlando con una persona e siamo molto in sintonia con questa persona, se ad un certo punto ci estraiamo dalla comunicazione, possiamo notare che se quella persona è così, anche noi siamo messi in questo modo. C'è proprio un rispecchiamento. Esatto, esatto. Se si fa in modo, diciamo così, spontaneo, va bene. Se si fa in modo manipolativo, va un po' meno bene. Diciamo, quell'uso della PNL non mi piace tanto. La questione relativa, la gestualità, l'avete detto, poi in Italia questa cosa della gestualità è molto, in altre culture verrebbe considerato come altamente sconveniente. La questione relativa al tempo e allo spazio. Quante volte ci troviamo di fronte a delle persone che hanno una modalità di parlare completamente diversa dalla nostra e che hanno magari bisogno, nella, diciamo così, esposizione di una motivazione, di molto più tempo. Che cosa siamo portati a fare in questo caso? Che cosa ci suscita? A mio discapito ho imparato che quando di fronte delle persone che hanno una modalità molto più lenta di esposizione, la mia propensione sarebbe quella di anticipare. Ho imparato a rispettare i tempi dell'altro grazie ad un responsabile che ho avuto, il quale nel momento in cui lo interrompevo per anticipare le cose, ritornava indietro e ricominciava a raccontarmi tutto dall'inizio. Quindi se la mia pazienza dovevano essere 15 minuti, diventava mezz'ora. E allora il rispetto dei tempi dell'altro è l'uso del silenzio. In alcuni casi il silenzio è quasi sempre imbarazzante nella comunicazione, no? Quante volte stiamo parlando con un'altra persona e cerchiamo di riempire tutti i buchi. Attraverso il silenzio invece possiamo manifestare intanto la nostra attenzione nei confronti degli altri. L'ascolto attivo necessita del silenzio, perché il silenzio è un regalo che stiamo facendo all'altro per riorganizzare magari i suoi pensieri, per trovare le parole giuste, per essere obiettivo, per ricordare alcune cose importanti. E poi la distanza, appunto, a seconda delle culture, ma anche a seconda della persona, a seconda del grado di intimità con l'altro, ci sono delle distanze convenzionali che dobbiamo rispettare. E allora, se non conosco una persona e se non dopo aver scambiato due parole al check-in in aeroporto vi sta raccontando una cosa che mi è successa, non adesso, ma un po' di tempo fa, e ad un certo punto questa persona ti comincia a raccontare del suo lavoro, una cosa interessante anche, dici, ah, però mentre comincia a raccontartelo, ad un certo punto si avvicina e tu che cosa fai? Cominci un po' a spostarti, no? Prendi la distanza e quella persona si avvicina e ad un certo punto ti ritrovi così. Nel pulmino che ti porta dal gate all'aereo tu ti ritrovi in questo modo. In quel momento c'è la tua amigdala che ti dice alert, alert, che cosa faccio? Fuga contro attacco. Fuga e il mio cervello decide di non ascoltare più perché in quel momento io sto pensando cosa, caspita, posso fare per allontanare questa persona che sta invadendo il mio spazio. Nella comunicazione ogni tanto, se facciamo magari da osservatori, quello che ci capita di vedere sono delle persone che sono in questa posizione e delle altre che sono messe in questo modo. Siamo attenti a questo, quindi il feedback che possiamo ricevere nella comunicazione dall'altro non è naturalmente così come la comunicazione è soltanto un feedback verbale, è anche un feedback non verbale. Quindi in quel caso sappiamo che forse stiamo invadendo l'altro. E quindi l'ascolto che possiamo mettere in atto è un ascolto passivo, stiamo ascoltando delle cose e stiamo incamerando, però non stiamo né dando un feedback né stiamo facendo qualcosa che ci permetta di raccogliere più informazioni. Un ascolto selettivo, quello che mi sta dicendo all'inizio mi piace, ho visto la tua relazione, mi è piaciuto molto il primo paragrafo, però nella seconda parte, dalla seconda parte in poi, taglio e mi ricordo quello che è coerente con quelle che sono le mie aspettative, perché io ero così contenta di far vedere questo compito e di vedere che risponso avessi e la seconda parte un po' meno. E allora bisogna allenare l'ascolto attivo. Nell'ascolto attivo dobbiamo fare delle domande aperte che ci servono per ampliare la conoscenza. Possiamo riformulare, parafrasare. Come? Allora, ti è piaciuto il corso? Sì, no. Domanda chiusa. Che cosa ne pensi del corso? Domanda aperta. Domanda aperta. Cioè chiusa ti do la dicotomia di risposta, cioè ti incanalo già in un, non soltanto sì no, ti posso dire anche, ti posso dare altre opzioni, però in ogni caso ti guido nella risposta, non ti do la possibilità di darmi altre, diciamo così, altre argomentazioni. Questo. Invece nella domanda aperta appunto, che cosa ne pensi del corso? Puoi spaziare. La riformulazione, magari parafrasando, è molto importante anche proprio per la relazione comunicativa, perché l'altro si sente riconosciuto, si sente compreso, è un bisogno forte quello di essere capiti dall'altro nella comunicazione. Quindi il riformulare, ed è tra l'altro una delle parti della, di una tecnica di influenza che si chiama l'influenza positiva. Quindi il riformulare. Così come appunto il silenzio di cui abbiamo parlato prima e così come il riepilogo. Se nel riepilogo, soprattutto in una situazione, e tu sei maestra in questo, in una situazione magari conflittuale, se nel riepilogo si vanno anche a ripuntualizzare quelli che sono gli aspetti di accordo e degli aspetti di disaccordo, è ancora più efficace, perché così si ha la possibilità di valutare quelle che sono le differenze, le posizioni e l'altro capisce che non stai cercando di manipolarlo, ma stai cercando di vedere la situazione nella realtà com'è. E allora nella comunicazione, così come diciamo nelle relazioni, possiamo mettere in atto degli atteggiamenti che possono essere passivi o aggressivi. Un soggetto che ha uno stile comunicativo passivo, solitamente, adesso prendeteli un po' con sempre la relatività, è un soggetto che ha bisogno di essere accettato, cerca di piacere agli altri, quindi evita il conflitto. È una persona che non ha un riscontro della propria efficacia, se non attraverso magari il rispecchiamento dell'altro. È una persona che va in ansia e che magari è apprensivo nei confronti dell'altro, nella comunicazione, anticipa quello che può essere il giudizio, quindi sta non nell'ascolto, perché comunque pensa a quello che potrebbe essere l'atteggiamento dell'altro, finita la comunicazione e si perde una parte della comunicazione. In alcuni casi può avere un senso di astio, di rabbia repressa, che nella comunicazione può portare sempre ad un distogliere, l'attenzione dal contenuto. Nella comunicazione aggressivo la posizione della persona spesso è quella del pensare che l'altro sia ostile nei suoi confronti, c'è l'atteggiamento aggressivo che spesso maschera una sorta di difesa che la persona sta attuando. Ci può essere il senso e il bisogno di rivendicare, quindi di primeggiare come anche rivendicazione. La rabbia viene esplosa, la posizione dell'altro non viene presa in considerazione. Quando agiamo una comunicazione aggressiva è come se fossimo ciechi alla posizione dell'altro che potrebbe essere magari anche uguale alla nostra. Spesso quando vedi la comunicazione tra persone che agiscono alla loro aggressività ti rendi conto che nell'agire quella aggressività stanno dicendo magari le stesse cose che sta dicendo l'altro in modo diverso, però è talmente forte la spinta aggressiva che comunque l'aspetto di contenuto non viene ben visualizzato perché non c'è proprio attenzione l'altro. L'alternativa è la via di mezzo tra le due posizioni si chiama assertività. La persona assertiva è una persona che è determinata, è una persona che conosce bene quella che è la motivazione, quelle che sono le sue spinte, che nel momento in cui esplicita la sua richiesta ad esempio lo fa con determinazione, che è un'aggressività intesa come ad graveyard, vado verso il mio obiettivo, lo fa con il rispetto dell'altro, dando la possibilità all'altro di esprimere la sua opinione che può essere differente. lo fa trasformando appunto quello che dicevo prima, il conflitto in confronto, quindi dando la possibilità anche all'altro di entrare senza per forza doversi appunto sovrapporre e quindi esponendo quelle che sono altre punti, altri punti di vista, altre motivazioni, altre argomentazioni. Nella comunicazione assertiva, nello stile assertivo, c'è una fortissima parte di ascolto. Un soggetto assertivo così come è determinato nel adurre quelle che sono le sue ragioni, nello spiegare quelle che sono le sue argomentazioni, è tanto attento nel fare domande aperte e nel capire qual è la posizione dell'altro. E quindi sicuramente quello che viene fatto è molto l'uso dell'ascoltativo, la riformulazione, ecco, cercare di non interpretare, di non essere giudicante. Quindi quello che mi arriva è questo, ti ritrovi, quello che ho capito è questo, una gestione delle emozioni e una posizione di grande rispetto nei confronti dell'altro. Quindi questa è l'alternativa ai due stili di comunicazione, da una parte passivo e dall'altra parte aggressivo. Assertività. Alleniamoci alla comunicazione assertiva. Allora adesso, scusate se vado un po' veloce, adesso entriamo nella comunicazione per ottenere qualcosa e cominciamo a capire che cosa possiamo fare. Dobbiamo presentare una nostra idea. Nel presentare la nostra idea dobbiamo quindi fare delle valutazioni. Allora, quando comunichiamo con gli altri, tre sono gli aspetti che entrano in gioco. Allora, da una parte entra in gioco quello che è il contenuto della nostra comunicazione e quindi dobbiamo argomentare il nostro contenuto e adesso vedremo in che modo farlo. Da un'altra parte entra in gioco il nostro corpo e quindi quello che io dico deve essere coerente con la modalità attraverso la quale io lo dico. Quindi devo usare in modo sapiente e coerente il linguaggio del mio corpo. E poi devo valutare e soprattutto gestire il mio stato emotivo. ci possono essere delle giornate, io che faccio tanta formazione, mi sono capitate delle giornate nelle quali non mi sarei svegliata, non mi sarei alzata perché magari avevo dei problemi familiari o comunque sì, sono andata e però dentro di me pensavo va bene, ok, sono in quest'aula, che cosa posso dare a queste persone? Cioè dentro di me sarei arrivata in aula in questo modo. questo era come mi sentivo. Che cosa gestire la parte stato, che cosa significa? Significa trovare un ancoraggio innanzitutto nella posizione perché l'influenzamento del nostro stato emotivo, della nostra parte psicologica sul nostro corpo c'è, ma c'è anche il contrario. E sono stati fatti tanti esercizi e tanti studi su questo. Se assumo una posizione depressiva, dopo un po' di tempo, il mio lato psicologico, il mio cervello emotivo comincia a recepire degli stimoli dal mio corpo che fanno sì che piano piano qualcosa nello stato emotivo cambi e comincio a sentire delle emozioni che sono più vicine a quello che è l'atteggiamento del mio corpo. E allora posso fare anche il contrario. Quindi cerco di, e si fa proprio un lavoro di plasmare anche l'atteggiamento posturale delle persone. Quindi da un atteggiamento, apertura, respiro, attraverso il respiro energia, attraverso l'energia anche senso di benessere e poi un ancoraggio. I miei ancoraggi sono due, molto semplici. Uno, piedi a terra. Sento i piedi a terra. Io ci sono e sono qui in questo momento. Non sono in ospedale da mio padre, non sono a casa col bambino malato, non sono, sono qui. Sguardo, ci sono gli altri. Respiro, mi do energia. Sono qui per te. Cioè questo è un po', diciamo così, l'ancoraggio che io mi do. Quindi abbiamo detto ragionare sul contenuto, gestire lo stato e agire coerentemente il linguaggio del corpo. Allora, alcune parole sul contenuto. In che modo dobbiamo strutturare il nostro contenuto? Allora, poi faremo l'esercitazione. In generale noi dobbiamo strutturare il contenuto in modo tale che le persone sappiano delle cose e quando andiamo a dare delle argomentazioni, in prima istanza non adentriamoci eccessivamente nel profondo della nostra discussione. Cerchiamo di toccare tre punti, che siano tre punti chiave, essenziali, che possono dare una visibilità del nostro progetto, della nostra idea, della soluzione al problema che abbiamo pensato. che gli altri sentano, quindi dobbiamo trasmettere qualcosa e che gli altri credano. Quindi dobbiamo dare una visibilità del contenuto che stiamo trasferendo in questi tre termini. La cosa importante è che prima di fare un lavoro del genere, quando l'ultimo corso che ho fatto con appunto Peter Mayer, che è della società Sende Deliver ed è un esperto di comunicazione che ha appunto teorizzato quanto vedremo adesso, quello che lui ha detto è che per una comunicazione, per un incontro in cui dovete illustrare un vostro progetto di cinque minuti, dovete spendere in preparazione almeno cinque ore o dieci. perché comunque certe, soprattutto certi, dipende da quanto diciamo così importante è magari il risultato dell'interazione con gli altri, se gli altri devono essere convinti ad investire nel tuo progetto, il valore aggiunto, che loro sentano qual è il contributo importante che tu stia dando, che loro credano nel valore della tua idea, è fondamentale e soprattutto se hai pochissimo tempo a disposizione, la scelta delle parole, la costruzione del contenuto del messaggio deve essere molto accurata e quindi devi spendere veramente tanto, tanto tempo. E una domanda fondamentale che ti devi porre è qual è il valore aggiunto? Cioè che cosa ha la mia idea di così speciale rispetto a n altre idee per cui deve essere ascoltata e deve ricevere il finanziamento da parte di queste persone? E la prima persona che deve esserne convinto devo essere io, ecco perché ci vuole tanto tempo, perché in alcuni casi non è detto che immediatamente ci venga in mente questo, invece dobbiamo non soltanto conoscerlo, ma lo dobbiamo esplorare bene, dobbiamo esserne fortemente convinti, dobbiamo esserne padroni, perché l'altro ci potrà porre delle domande e se noi non abbiamo forte, solido e diciamo così ben interiorizzato qual è il valore aggiunto della nostra idea, non sappiamo difenderla e magari è la migliore in assoluto, ma non la sappiamo difendere. E allora, la prima cosa che si dice è cerca di trovare una frase, una, che sintetizzi la tua idea e quella frase rendila memorabile, fai sì che quella frase che lui chiama point, che è appunto un racchiudere in poche parole l'essenza del tuo progetto, della tua soluzione, della tua idea, fai in modo di ripeterla, questi sono gli effetti, cioè sono le motivazioni per le quali possono diventare memorabili, tu la dirai come prima cosa, la ripeterai più volte e quindi per un effetto di frequenza la persona comunque la memorizzerà, la dirai alla fine, soprattutto l'ancorerai alle emozioni, questo alla fine, quindi la prima cosa che fai è andare a creare e a sintetizzare il tuo progetto in una frase che ti seguirà, che sarà una sorta di fil rouge o light motive che ti accompagnerà nella trattazione della tua esposizione. Allora, ieri abbiamo detto che spesso nel giudicare qualcuno impieghiamo veramente pochissimo tempo, se poi quel qualcuno è una persona che ci sta chiedendo qualcosa e abbiamo poco tempo da dedicare e tantissime cose importantissime da fare, magari siamo ancora più restringenti nel dare il giudizio e nel capire se da subito, tanto quella persona in tre minuti ti esporrà la sua idea, in cinque minuti ti esporrà la sua idea, all'inizio il primo incipit che quella persona ti darà potrà essere di forte engagement oppure potrà essere di perdita di interesse e quindi di ascolto selettivo o passivo. E allora lui chiama Ramp questa prima fase e dice devi partire intanto con il valore aggiunto che ha per gli altri, quindi nel proporre la tua idea non perdere tempo nel dire perché io ho pensato che, no, non ce ne frega niente dell'io, ci interessa che cosa dà a voi. Questa cosa è importante perché la tua organizzazione, la vostra organizzazione porta questo valore aggiunto per te, quello che ci sarà dopo l'aver accolto questa mia richiesta sarà questo, quindi fai capire immediatamente qual è il vantaggio per l'altro, prima regola fondamentale dell'engagement, quindi abusare la parola tua e la parola voi, ancorare con delle citazioni di ricerche, con magari il ricordare dei fatti, con un riproporre magari in termini molto semplici e esattamente realistici i fatti oppure la problematica se si tratta di una problematica, nel raccontarla fai in modo che dentro di loro susciti un bisogno di indagare di più, un bisogno di farti delle domande, un interesse ad approfondire e naturalmente cerca di aiutarli a visualizzare il vantaggio, quindi nella parte iniziale, oltre a dire che è il valore aggiunto, cerca di dirgli che cosa potranno assaporare nel momento in cui realizzeranno oppure accoglieranno questa tua proposta e questa è la prima fase che dura pochissimo naturalmente e si chiama appunto rampa. Nella seconda fase io vado ad esplicitare la mia idea, il mio contenuto, vado proprio ad esporre il contenuto, abbiamo detto cerchiamo di tradurli in tre punti essenziali, i tre punti essenziali qua ho fatto un esempio, se è un prodotto innovativo definisci quale è il valore del prodotto, illustra come lo realizzerai e poi descrivi quelli che sono i benefici che verranno prodotti. E naturalmente sii disponibile a ricevere delle domande, ma nella tua disponibilità, ecco perché c'è tanta preparazione dietro, nella tua disponibilità a ricevere delle domande poniti tu in una posizione di anticiparle e quindi, ok, quali sono tutte le domande, anche le più cattive, anzi soprattutto le più cattive che mi potranno essere fatte e che cosa io risponderò se mi verrà fatta una domanda del genere? Se puoi agire con l'aiuto di un'altra persona, ancora meglio, altrimenti puoi fare anche da solo un'operazione del genere. E questa è quindi la seconda fase e poi chiudi con il dessert. Ritorna a quello che era la frase cuore del tuo progetto, dell'illustrazione della tua idea e poi, offrendo una sintesi, vai a toccare le emozioni, ad esempio cercando di ancorare con un racconto che emotivamente potrà toccare quella persona perché magari cogli quelli che sono i punti essenziali, il successo, la famiglia, l'ambiente, quindi fai sentire quello che è emotivamente lo stato nel quale quella persona si potrà trovare nel momento in cui questo progetto verrà realizzato, o comunque verrà approvato. Quindi abbiamo detto la prima fase engagement, quindi cercare di cogliere l'attenzione della persona, una seconda fase di illustrazione del progetto suddiviso in tre punti essenziali e una quarta fase di dessert per trovare trovare un ancoraggio emotivo nella persona. Allora, i tempi sono un po' stretti, però in modo sfidante, come? Il mio. In modo sfidante, vi chiedo di, e poi dopo purtroppo ne sceglieremo uno e sarete voi a scegliere, diciamo così, il progetto, vi chiedo di usare già magari una vostra idea, se vi va, e in quattro gruppi di provare quantomeno a strutturare, ora non ce la farete perché comunque questo è un lavoro che necessita un pomeriggio intero, però... Lavorate in una condizione di crisi, però ecco, soprattutto cercando di delineare le fasi, ok? Quindi, ah per me figuriamoci, io sono qua. Speravo di andare in spiaggia, se lo vogliamo fare in spiaggia sarei più contenta. Ok, allora, dividetevi in quattro gruppi. È tardi, avete fame, vi faccio lavorare, sì. Situazione di stress. Sì, aree geografiche. Ce la facciamo a fargli, a fargli fare almeno una presentazione, almeno un gruppo a tutti e quattro? E voi? Guardate dalle 1 e mezzo abbiamo, se vogliamo restare un po' di più, cioè da parte di noi c'è il problema. No, io figuriamoci. Più che altro, vabbè, per il questionario? È solo per il questionario. Che paura che poi lo facciano con il freddo, però 5 minuti si può fare, dai. Ci siete? Avete scelto i gruppi di ieri o vi siete mischiati? Bravi, bravi, cambiamo prospettiva. Allora, quindi qua c'è un gruppo. Voi? Un altro gruppo? Qua c'è altri due gruppi. Non può essere un gruppo così grande. Ecco, quindi... E anche voi, 5? Va bene, dai. No, allora venite qua, venite, venite. Sì, dai. Non avete l'ancoraggio, non tenete l'ancoraggio fisso alla postazione. Avete un quarto d'ora di tempo, non di più. Sono molto fiduciosa. 5 persone, non dobbiamo essere... No, no, sono 5 gruppi. Puoi scegliere, guarda, di metterti con loro, oppure con loro. Guarda, ti hanno già colto, vai, vai. Allora, qua sono un gruppo. Loro sono un altro gruppo. 3 e 4. Ah, vi faccio il disegno. Prego, vi prego di non scegliere ma... Allora, qua sono un gruppo. Allora, qua sono un gruppo. a illustrare la propria idea. Tutti insieme. No, no, tutti insieme. Sì. Allora, gli altri... Allora, gli altri saranno giudici in questo momento e quindi alzeranno la mano alla fine, le mani, scusate, le mani, le mani alla fine, andando a dare in questo modo il proprio giudizio in termini di sì lo finanziamo oppure no, non lo finanziamo. Quindi alzeranno la mano coloro che crederanno nell'idea e decideranno di finanziarla. Allora, prego. Allora, aspettate il microfono, magari ve lo passate, fate voi. Prego. Prego. Buongiorno a tutti. Noi siamo un'azienda di biomateriali e ci occupiamo principalmente di costruire scaffold per la rigenerazione ossea. Uno dei problemi principali è sicuramente dato dalla distruzione, molte volte o comunque da alcuni problemi quali incidenti stradali che provocano la rottura di legamenti, ossei e anche ossa lunghe e così via. In particolar modo noi proponiamo il nostro ente di riferimento, è comunque un'azienda ospedaliera, alla quale vogliamo rivolgerci per risolvere appunto il problema dato dalla distruzione e dalla rottura dei tessuti ossei. In particolar modo lo facciamo proponendo un materiale biocompatibile e biorestorbibile che abbia la caratteristica rispetto ad un materiale appunto metallico di rigenerarsi e quindi di praticamente fornire una degenza minore al nostro paziente, di permettere una ricostruzione ossea completa e quindi in questo caso anche di ridurre i costi all'azienda ospedaliera di una seconda operazione che in genere viene effettuata nel qual caso venga impiantata una protesi metallica. Abbiamo portato qui un caso che è uno dei casi più comuni perché generalmente quello che succede è che queste problematiche si riscontrano a causa soprattutto di incidenti stradali. Lascio gli investimenti sulle strisce pedonali, suggerisce il nostro Ivan. Passo la parola a lui. Io sarei il caso umano. Il nostro progetto si chiama Salta in gamba, pertanto l'obiettivo è quello di arrivare al più veloce e soddisfacente recupero motoria del paziente, abbattendo i rischi legati ad un'eventuale mal riuscita oppure un recupero sbagliato dovuto alla fisioterapia praticata in maniera sbagliata oppure semplicemente dalla pigrizia del paziente. Pertanto il nostro obiettivo è quello di aiutare sia il paziente che la struttura ospedaliera ad anticipare i tempi di recupero e riportare la situazione nella normalità. L'uso di materiali innovativi ci permette di affrontare un costo economico inferiore spalmato su tutti gli aspetti assicurativi e di digestione e alla fine del nostro risultato più soddisfacente sono i nostri pazienti che alla fine del loro percorso di recupero stanno in piedi, stanno in gamba. Vorrei far intervenire i nostri ingegneri di meccanica i quali potrebbero illustrarci quello che possa essere il nostro prodotto. Diciamo che il punto di vista fondamentale è una riduzione fondamentale dei costi e soprattutto uno smaltimento dovuto alla protesi in titanio che una volta asportata dal ginocchio dovrebbe poi comunque essere recuperata. In questo modo invece avendo un autosoprimento del materiale da parte del paziente, questi costi andrebbero ad essere debellati. Ma soprattutto c'era un discorso di recupero da parte del paziente in quanto l'osso, una volta che vengono asportate le protesi in titanio al suo interno dei fori che devono essere comunque recuperati e quindi bisogna aspettare una calcificazione nuovamente dell'osso e deve essere rieffettuata una rapidizzazione. Da questo punto di vista quindi si riducono notevolmente i tempi di ripresa del paziente e questo permette quindi di avere maggiori vantaggi a livello aziendale perché appunto il prodotto può essere venduto e possiamo effettuare due operazioni invece di una praticamente al punto di vista aziendale. Ok, grazie. No, 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 lo teniamo. Ok, allora chi finanzia questo progetto? Io. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei persone. Ok, grazie. Altro? Altro gruppo, mantenetevi nei tempi, eh, tre minuti a gruppo. Onestamente lo so che non avete la benché minima voglia di stare qui a sentirmi. Forse non ce l'ho nemmeno tanto io di parlare. Chi di voi vuole andare a mangiare ora? Davvero ora? Alzatemi la mano. Chiaro. Chi di voi alla fine di questa giornata voleva, non lo so, andare con la sua famiglia? Chi ha un figlio? Tu, volevi passare del tempo con tuo figlio? Magari non ci riuscirai stasera. È veramente triste. Tu mi sembri uno davvero in forma, davvero sportivo. Volevi andare a giocare a pallone? Forse non ce la farai. Magari se esci tardi, sacco di lavoro, davvero, tantissimo lavoro. Chi di voi voleva semplicemente rilassarsi, magari un centro benessere? Lo so, tu. Siamo in diversi, volevo farlo anch'io. Maledizione, cioè la giornata è solo di 24 ore. Ma se davvero noi potessimo prenderne un'altra, o magari altre due, che succederebbe? Sarebbe fantastico. Forse è più del denaro. Forse quello che ci manca di più di tutto è il tempo. Noi siamo H25 e scoprirete adesso perché. Noi il tempo lo creiamo. È possibile? Sì, è davvero possibile. È davvero possibile creare il tempo. E' oltre la fisica quantistica. La fisica quantistica è una gran cosa, ma spesso le soluzioni semplici sono le migliori. Un recente studio dell'università di Harvard ha dimostrato quanto la nostra efficienza produttiva in una giornata, e parlo di produttiva, solo lavoro, sia appena del 60%. Abbiamo un 40% potenzialmente inutilizzato. Per non parlare della nostra efficienza delle ore di sonno, siete tutti un po' stanchi. Caffè? Caffè? Chi è dipendente dal caffè? Anch'io, sono veramente dipendente dal caffè, ho bisogno di uno adesso. Bene, l'efficienza delle ore di sonno, del riposo, è pari al 50%, veramente una percentuale direi migliorabile. Cosa vi proponiamo? Noi vi proponiamo del tempo aggiuntivo, creiamo il vostro tempo. Il nostro algoritmo brevettato in collaborazione con l'MIT, voglio dire. Noi siamo all'università del Salento, grazie ad alcune opportunità di collaborazione, abbiamo brevettato un algoritmo. Ce ne sono molti in commercio. Il nostro semplicemente si inserisce in questo filone. Usiamo tutti i dati a nostra disposizione, i dati che tu metti su Facebook, le tue ricerche su Google, qualsiasi cosa voi facciate sulla rete e ne fate molte. Qualsiasi cosa io faccia sulla rete. Tutto ciò ci serve a ottimizzare al massimo il vostro tempo. È come quando andate al dietologo e chiedete una dieta. Se la seguite dimagrite bene con noi, una tabella di gestione di quello che dovete fare, del tempo e creerete ore aggiuntive, da spendere come volete. Creerete ore aggiuntive. Noi creiamo il vostro tempo. Quindi quello che vi chiediamo non è soltanto di investire su di noi, ma di usare il nostro prodotto. Quello che vi chiediamo è di darci dei soldi per diffonderlo, per avere un'espansione virale. E saremo il nuovo Facebook, non sulle relazioni ma sulla persona. Voi usierete il nostro prodotto, non state soltanto investendo sul nostro prodotto, lo troverete utile. Perché dei manager come voi sappiamo benissimo quanto possono essere ancora più impegnati della nostra povera start up. Noi creiamo il vostro tempo. E se è vero che il tempo è denaro, dateci l'opportunità di crearlo e ci guadagneremo tutti. H25. Creiamo il vostro tempo. Chi vuole finanziare questo progetto? Ok, non ho preso il numero però eravate tanti. Allora, l'altro gruppo? Gli altri due? Mancano due, quindi un altro gruppo? Ah, va bene. Lo avete capito, no? No, no, no. Devo delegare. Tre minuti, tre minuti. Tre minuti, dai. No, non si fa. Non si fa. Tre minuti. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Non si fa. Ok, ciao a tutti. Allora, vi proponiamo qualcosa che vi toccherà molto da vicino. Per esempio, a te piacerebbe guadagnare anche mentre vai in palestra? Sì, e per esempio a te piacerebbe sapere che mentre persone a te vicine fanno un acquisto ci guadagni anche tu? Ecco, tutto questo che sembra così una cosa molto strana, un po' impossibile, in realtà è possibile ed è anche molto semplice. basta aderire al nostro progetto che si chiama Lioness. Questo progetto consente anche di rilanciare gli investimenti e vivete la crisi come la viviamo noi. La percepite la crisi nelle vostre case? Percepite la difficoltà delle persone a voi vicine di far fronte alle difficoltà familiari, alle difficoltà di gestione delle esigenze di vita? Allora, ecco, investire e al tempo stesso guadagnare, ti sembra possibile? Con noi è possibile. Aderisci al progetto, è molto semplice, troverai tante opportunità di guadagno e di risparmio quotidianamente in tutte le tue spese. Il progetto è molto semplice, noi abbiamo già aderito e siamo parte della community. Non sarei solo nei tuoi investimenti, potrai proporlo a persone a te care che avranno il tuo stesso vantaggio, quindi farai anche una, proporrai anche qualcosa di utile per chi ti sta vicino e potrai inserire, suggerire ad aziende che tu stimi di aderire alla nostra community. Vedete come un gesto così piccolo come può essere quello di un acquisto, può avere delle ripercussioni non solo per te, per te, per te, per te, ma anche per le persone che ti stanno intorno e anche per l'economia generale, rilanciando gli investimenti. Se volete aderire, siamo qua. Grazie. Allora, chi vuole investire su questo progetto? Ok, ultimo progetto. Innanzitutto noi stiamo utilizzando un formato di bicicletta standard che consente a tutti quanti un uso cittadino, quindi la bicicletta pieghevole, formata soprattutto da materiali riciclati, come l'alluminio in primis, che consente massima leggerezza, quindi per tutti coloro che utilizzano la bicicletta quotidianamente avranno il vantaggio anche di portarla con sé ovunque. I materiali abbiamo sperimentato, il nostro amico ci ha suggerito, è la ruota che non fora mai, termine, è un materiale particolarissimo che abbiamo solamente noi come brevetto. in più, cosa bicicletta rispetto agli altri sono i costi bassi. Noi ci rivolgiamo a un commercio che interessa tutti e il nostro obiettivo è presentarvi un prodotto che non superi il valore di 100 euro. Inoltre le nostre possibilità sono quelle appunto di presentare un prodotto che si avvalga di vari centri dislocati sul territorio in modo tale da poter avere sempre la garanzia di avere una bicicletta efficiente, quindi presentarvi in qualsiasi dei nostri punti affiliati e avere insomma quelle che sono le giuste referenze o comunque anche per i pezzi di ricambio eccetera eccetera. Niente, questo è quanto insomma. Il tempo stringeva troppo, grazie. Allora, chi vuole finanziare questo progetto? Bene, allora i due progetti finanziati sono questo progetto e l'altro progetto, come si chiamava, dell'H25 e Bici in città. Bravi. Bici in città. Vieni a farla a Roma, che aderiamo tutti. Allora, ragazzi, chiudiamo qua questa mattinata, vi chiediamo veramente pochissimi minuti giusto per compilare giusto il feedback. Io vi ringrazio perché mi sono divertita e mi avete regalato emozioni e anche momenti di riflessione, quindi grazie. Grazie, veramente. E tanti, veramente, tanti, tanti, tanti auguri, eh. Tanti auguri di cuore. L'ultima notizia al volo. Ah, scusa. Sì, 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 io posso. L'ultima notizia al volo. Fuori ci sarà la consegna degli attestati. Vi danno l'attestato una volta che compilate il modulo di feedback. Come avete, diciamo, imparato oggi dalla lezione, anche per noi i feedback sono importanti. Vi chiedo di compilare tutto il foglio. Un'altra cosa, noi vi aspettiamo per il secondo appuntamento giovedì prossimo, alle 15 di pomeriggio, e l'argomento della prossima lezione sarà la proprietà intellettuale. Quindi come proteggersi e come andare a fare anche un'analisi di un brevetto nel momento in cui ho un'idea e voglio sapere se posso brevettarlo o meno. Grazie a tutti per essere stati qua. Grazie. Scusate ancora dalla regia, mi chiedono di suggerire nuovamente le pagine Facebook e Twitter. Vi chiediamo di mettere un like su tutte e due le pagine in modo tale da poter entrare a stretto giro in contatto. Quindi tutte le comunicazioni noi le utilizziamo tramite social media. Grazie ancora. Ciao, ciao. Grazie a tutti.